Dalla sinergia di molti giovani biturgenzi, ma non solo, nasce una canzone, un video musicale che andrà a aiutare il faticoso lavoro della Croce Rossa. Con orgoglio e soddisfazione è stato presentato questo progetto proprio questa mattina. Di cosa si tratta, Assessore? Si tratta di un progetto lodevole che hanno curato in primis Michele Rossi, Mattia Barni, Niccolò Neri, ma anche poi tanti altri artisti e personalità dell'Alto Tevere. Quindi è un progetto che è riuscito innanzitutto a scavalcare un limite amministrativo che spesso rallenta anche lo sviluppo culturale, non solo della Valtiverina, intesa come un unicum culturale. E poi è un progetto che è riuscito a stringere questi artisti su una collaborazione che ha saputo superare anche la condizione di quarantena che tutti noi abbiamo dovuto vivere in questi mesi. Quindi eravamo relegati in una dimensione individualista necessariamente tale. La musica è riuscita a creare anche qui una dimensione sociale che oltre ad essere virtuale è riuscita a coinvolgere, a coinvolgere l'aspetto creativo, l'aspetto anche della partecipazione a qualcosa che doveva essere di pubblica utilità. Quindi anche chi non ha poi realizzato materialmente questo pezzo potrà ora dare un supporto importante andando ad acquistare la chiavetta che contiene la canzone. Perché tutto questo poi sarà devoluto, tutto questo che potrà essere raccolto attraverso la vendita del pezzo sarà devoluto, dicevo, alla Croce Rossa, che è un soggetto che opera in Alto Tevere, quindi in un territorio che comprende sia il versante Umbro che quello Toscano ed è un soggetto che abbiamo visto ha dato un contributo importantissimo durante l'emergenza Covid. Quindi abbiamo in Valtiverina creato qualcosa di originale, questo pezzo musicale, abbiamo valorizzato l'attitudine alla musica che questo territorio ha probabilmente da sempre e abbiamo fatto e faremo un'opera benefica andando quindi a dare il giusto sostegno a un ente che appunto opera per aiutare tutti, per aiutare soprattutto chi ne ha bisogno ma poi anche la cittadinanza nei periodi di crisi ma anche nei periodi normali, tra virgolette. Si riparte con la musica, con un video e una canzone che uniscono ben 29 artisti di tutta la vallata. Promesso è il titolo e la promessa è quella di una ripartenza, di un nuovo inizio. Come nasce questa iniziativa? L'iniziativa nasce da una parte dall'isolamento e dalla volontà di dare un messaggio positivo che da quel contesto possa nascere un fiore dalla difficoltà. E ascoltando dei brani che sono stati fatti anche a livello nazionale legati appunto come scopo benefico ho pensato che magari potesse essere anche una situazione adattabile alla nostra vallata che è ricchissima di tanti talenti musicali. Così ne ho parlato con Mattia Barni che poi insieme a Niccolò Neri si sono messi a lavorare sul pezzo musicale, sul testo, sull'arrangiamento e abbiamo prodotto questo lavoro che appunto si intitola Promesso e che secondo me dentro ha tutte le caratteristiche per raccontare la positività e le cose belle che possono uscire da un momento come quello dell'isolamento da Covid-19. Una canzone che serve sia come si è detto per una ripartenza ma che aiuta anche la Croce Rossa, in che modo? Allora il progetto è stato fatto a favore della Croce Rossa perché ci è sembrato giusto coinvolgere un ente extraterritoriale che fosse stato coinvolto nell'emergenza e le persone che vorranno contribuire lo potranno fare sia tramite i canali digitali, quindi scaricando il brano tramite i vari canali appunto digitali che esistono online e poi tramite l'acquisto di apposite chiavette USB che contengono la canzone e che possono essere trovate in numerosi in 15 esercizi di tutta la Valtiberina, quindi potranno essere trovate a Sansepolcro, a San Giustino, a Lama, a Città di Castello e ad Anghiari. Possiamo dire che la musica in questo caso unisce i giovani ma unisce anche tanti comuni, quelli della Valtiberina? Assolutamente, in tanti progetti che ho fatto anche in passato mi è sempre piaciuto unire anche dei contesti come questo dove spesso magari ognuno pensa al suo articello e la cosa bella è appunto vedere queste situazioni in cui c'è la possibilità di lavorare tutti insieme, di fare delle cose collettive e insomma arrivare a degli esiti positivi tutti insieme.